Musica Eleven! Questo è il numero che ci piace! Undici come l'undicesima puntata di Special News e gli undici risultati utili consecutivi! Ciao Mike! Eleven! In inglese è undici! Michi come stai? Sto benissimo dai! Sei carico? Carichissimo! Come sempre e soprattutto dopo il grande pareggio di Domenica a Bolzano contro il Sutirol capolista che non prendeva in casa gol mai e ci siamo arrivati noi invece a bloccare la corsa degli Altatesini una grandissima partita! Michi gol di... Una grandissima prestazione! Grandissima prestazione! Gol di Davide? Balestrero! Balestrero quasi! Chioma magica detto anche Conan! Il nostro grande centrocampista ha fatto una grandissima partita veramente lui ma tutta la squadra Signori undici risultati utili consecutivi Ferral Pissarò quarto posto Ferral Pissarò che ha bloccato la capolista Ferral Pissarò che ci ha fatto gioire e urlare di gioia allora arriviamo al momento clou di Special News cioè a rivivere le emozioni vissute allo Stadio Druso con la radio cronaca e il commento del nostro Nicola Calonghi su radio Ed eccoci qua Poi recupera per un attimo la sfera tra i Leoni del Garda e il lancio totalmente a caso di Zaro che riesce però a pescare Bro largo a sinistra c'è anche forse un tocco falloso è tutto regolare Bro da fuori e c'è il vantaggio del Sud Tirola vive proteste dei Leoni del Garda perché con ogni probabilità c'era un fallo un fallo netto Nic era un fallo su Bergonzi pallo decisamente netto su Bergonzi non ravvisato dall'arbitro e ha lasciato proseguire l'azione di Bro arriva in questo momento il destro Spagnoli di testa la palla ancora al limite dell'area attenzione la posizione è regolare Liberani che compie un vero e proprio miracolo su una posizione dubbia devo essere sincero di primo occhito mi sembrava in offside guardando però bene la posizione dei Leoni del Garda poteva essere in gioco Fischnaller che conclude di destra incrociata sulla destra per Bergonzi che è chiuso riesce a trovare il corridoio per Carraro che mette il pallone in mezzo Miracoli prova ad amministrarlo lotta la palla che finisce sui piedi di Balestrero prova ad appoggiarlo il tiro i miracoli Poluzzi Balestrero e c'è il gol il gol appariggiato Balestrero appariggiato Balestrero Davide Balestrero una serie di ripalli attenzione intanto c'è anche un mezzo parapiglia nell'area di rigore è stato colpito durissimo da Tait mi pare che sia Miracoli e c'è un cartellino giallo per Tait ma quel che conta è che i Leoni del Garda hanno guardato il pareggio con Balestrero ed è arrivato è arrivato a furia di continuare a spingere a premere arriva il pareggio ma soprattutto bucchiamo la difesa del sud chioma magica il primo gol con la maglia verde-blu di Davide Balestrero non poteva scegliere partita più bella per trovare la prima marcatura oh Michi allora abbiamo rivisito emozioni a Bolzano intensissime sentite le urla di gioia mia e di Nicola veramente incontenibili il pubblico a Bolzano non l'ha presa benissimo ma tant'è se ne faranno una ragione Mike parliamo di un'altra partita bellissima intensa balsamica possiamo dire l'amichevole di sabato 20 a Passirano contro il Passirano del team senza di me che gioco è che partita è stata allora partiamo da un concetto non vedevate l'ora di tornare in campo perché l'ultima è stata a giugno col Chievo Verona che purtroppo ci siamo riusciti a tenere una prestazione tra l'altro ci chiedeva anche il mister di avere una buona però posso dirti era la prima quella di giugno dopo 18 mesi di stop quindi avete fatto anche grandi cose però col Passirano è andata molto bene uno siete tornati in campo due c'era tanto pubblico tanti genitori entusiasti anche tecnici insomma vi siete ritrovati in gruppo dopo tanti allenamenti e poi avete anche vinto raccontaci il match dai allora è stato un grandissimo match sì che tra l'altro bisogna dire molto un po' complicato vabbè immagino perché molto tattico esatto sì la formazione del Passirano ci ha fatto solo una piccola svista proprio all'ultimo agli ultimi secondi ma dopo ci siamo ricompattati subito ricompattati subito l'abbiamo siamo andati subito in contropiede dandoli una una balancata di gol grande una lezione di gioco dei verde e blu ottimo io so che hai giocato molto bene come il tuo solito perché sei un giocatore generoso in campo stai cercando ancora il gol arriverà perché stai lavorando molto sodo so che hai colpito un palo sì ho colpito un palo raccontaci l'azione perché questa è importante allora l'azione è stata davvero bellissima perché non è per me non è stato molto semplice a riavere il contatto con l'erba vabbè certo anche quello è importante è vero perché dopo uno stop di sottomisi c'è stato anche mancato troppo a lungo quella zona lì per me ha significato tanto sei arrivato a tanto così dal gol sì infatti c'è stato un po' di squidi ma va bene questa prestazione tua secondo me ha chiarito anche a mister Rossi il tuo posizionamento in campo ma ne parleremo attenzione sono tutti grandi segnali un altro segnale importante arriva da Fabio Iacchetti che è uno degli educatori uno dei come dire possiamo dire fari del progetto che vi sta sempre vicino che vi segue che c'era ovviamente io farei un applauso perché è un grande è un grande con il cuore Fabio sentiamo il suo contributo sentiamo il contributo dai raccontaci la partita Fabio sabato scorso col Passirano abbiamo disputato un amichevole con la nostra squadra di quinta e di sesta categoria hanno partecipato tutti i nostri atleti e tutti gli atleti del Passirano che hanno anche loro iniziato questa avventura diciamo che questa amichevole giunge diciamo a completare quelle che sono le diciamo le priorative di questo progetto che ormai dal 2016 che affrontiamo ed è quello di rendere possibilmente migliore la qualità della vita dei nostri ragazzi e chiaramente c'era stata negata la possibilità di poter disputare amichevoli per gli ovvi motivi che tutti conosciamo e adesso poter incontrare un'altra compagine e poter confrontarsi con loro dal punto di vista delle relazioni interpersonali poter condividere con loro la gioia anche del terzo tempo mangiando con loro e vivere la stessa esperienza è una cosa è stata una cosa bellissima tra l'altro la società del Passirano che è affiliata con la nostra Feralpi ha in un certo senso colto quello che è lo spirito educativo di questo progetto fatto con e pensato ai tempi con la dottoressa Virna Barbieri della cooperativa Il Gabbiano sì perché la condivisione di emozioni fa crescere fa crescere la qualità della vita dei ragazzi la preparazione fisica li fa star meglio dal punto di vista del benessere fisico e chiaramente anche quello che è l'importanza della competizione rende sempre più sempre più capaci i nostri ragazzi nell'affrontare quelle che sono anche le dinamiche della competizione stessa cioè accettare certi risultati o meno però quello che importa è che il Passirano ha indubbiamente colto al 100% quello che è lo spirito del nostro progetto è vero quello di far giocare tutti far partecipare tutti nel limite delle loro possibilità quindi al di là del risultato che ci ha visto vincere 6 a 5 ma il risultato è relativo tutti ne escono vincitori perché l'atmosfera e la giornata in sé con un grande pubblico festante ha fatto sì che tutti cogliessero l'aspetto positivo di questa esperienza quindi quindi veramente una giornata piacevole e ottimamente che si è ottimamente espressa parole al miele parole importanti quelle di Fabio Giacchetti che ringraziamo nuovamente allora Michi grazie tantissimo grazie di cuore Fabio sei sempre il numero uno grandissimo Fabio veramente se non ci fosse lui parte del progetto diciamo che tentennerebbe grande Fabio allora Michi torniamo a parlare di prima squadra perché pareggio a Bolzano 11 risultati utili consecutivi non bisogna abbassare la guardia adesso arrivano partite sulla carta un po' più abbordabili come ad esempio quella di sabato a 17.30 al Turina contro la Pergolettese squadra che noi abbiamo affrontato in amichevole quest'estate esattamente è andata molto bene perché abbiamo vinto 5 a 1 chiedo alla regia giusto 5 a 1 però il campionato è stata un'altra storia che partita vedi Michi? allora qua Pergolettese spero che sarà una partita come tante altre spero che non ci sia proprio dei da soffrire diciamo bisogna essere tre punti bisogna essere più freddi eh sì i tre punti dovessi essere assiccolati per forza sai cosa nelle ultime 5 partite abbiamo vinto quantomeno risolto deciso le partite negli ultimi minuti qui invece sarebbe importante ovviamente il calcio è bello anche perché è imprevedibile chiuderla subito o quantomeno sbloccarla già dall'inizio per poi giocarla un po' come sappiamo noi vabbè che partita ci aspetta ce lo dice ce lo racconta il nostro Nicola Calunghi dopo il prezioso pareggio di Bolzano la squadra di Mister Vecchia è tornata in campo martedì per preparare la sfida alla Pergolettese kick-off sabato alle 17.30 allo Stadio Turina la squadra di Lucchini ha un ruolino di marcia da top team nelle ultime giornate ed è reduce da un sonoro 4-0 ai danni della Provercelli che le ha proiettati fuori dalla zona play-out nonostante i due punti di penalizzazione importante quindi è non sottovalutare l'avversario per riuscire a centrare il dodicesimo risultato utile consecutivo e rimanere così agganciati al gruppo di testa rientrati stabili in gruppo su Agher e Gelmi rimane il dubbio Pisano uscito nel corso del match di domenica per un affaticamento muscolare grazie mille Nicola e adesso settore giovanile eh sì bravo Michi settore giovanile perché si è giocato il campionato la primavera 3 ha ripreso la marcia grande vittoria 3-1 sul Legnago Salus molto bene l'Under 17 ha pareggiato 0-0 invece sempre con il Legnago poi Under 15 grande vittoria 6-2 sul Legnago Salus e poi via via scendendo ovviamente tutti i risultati li vedete anche nella nostra grafica in sovraimpressione l'Under 11 che ha vinto 3-0 con la Verolese l'Under 9 i primi calci l'Under 12 femminile insomma tutti i risultati li vedete qui ma poi potete approfondirli anche sul nostro sito ufficiale feralpisarò punto it Michi seguiteci sempre seguiteci sempre beh questa è la base ovviamente ascoltami fammi un commento su questi ragazzi della primavera che stanno facendo molto bene hanno perso a Modena la cosa fondamentale è che sono subito ripartiti con una vittoria importante diciamo diciamo che la prima no primavera giusto sì primavera primavera immagino che sia una grande squadra sono bravi mister Bertoni in gamba tutto lo staff i ragazzi importanti sono veramente in gamba sì sì tra l'altro bisogna dire che hanno belle aspettative certo hanno le capacità di poter andare avanti a tirare su un lago perché rappresentiamo proprio la famiglia dei leoni quindi devo dire complimenti a primavera soprattutto alle ragazze che per me è un grande onore fargli gli auguri per i prossimi incontri certo e quindi in bocca al lupo a tutti in bocca al lupo a tutti continuate così ragazzi soprattutto siete nei nostri cuori grandi grande micchi allora nei nostri cuori c'è anche il nostro magazine che abbiamo qui guarda micchi che non manca mai non manca mai ovviamente perché olè sabato torna in edicola col giornale di Brescia leoni del garda magazine questi sono i primi due numeri sabato non vi svediamo la prima pagina la copertina perché è una sorpresa ovviamente andate in edicola sabato e prendete il nostro leoni del garda magazine sfogliatelo tanti contenuti ci sarà ovviamente esulti il report sui ragazzi di quinta e sesta categoria sono amiche di pastiglano con foto splendida anche del buon micchi in azione c'è una in cui esulti come un matto per il gol grande micchi non tuo però insomma è fare squadra anche questo quindi leoni del garda magazine in edicola col giornale di Brescia da sabato 27 olè ci siamo un giorno in cui si gioca mi permette che ci mancherebbe un giorno in cui volevo tra l'altro fare gli auguri eccezionali veramente a mia sorella che in quei giorni lì si opera al menisco quindi grande estima mi si chiama mia sorella Sara Sara bocca al lupo mi raccomando micchi io so che però tu avevi un saluto importante con un messaggio sociale fondamentale in questo periodo esatto qui davanti a te hai una ho qui una mascherina ecco perché in ogni caso bisogna sempre indossarla per motivi di sicurezza sempre indossarla allora stiamo rivivendo dei casi una quarta ondata si dice giusto per evitare non abbassiamo la guardia quindi mascherina sempre distanziamento sociale soprattutto evitiamo di fare assembramenti bravissimo laviamoci spesso le mani laviamoci le mani manteniamo sempre un metro di distanza uno con l'altro e tra l'altro bisogna bisogna anche avere un minimo di rispetto per quelli che hanno problemi giustissimo micchi questo è un messaggio molto importante quindi mi raccomando mascherina stiamo attenti l'emergenza non è finita ok allora da Matteo e da micchi è tutto vuoi fare il tuo solito saluto mitico come sempre forza leoni del garda il saluto di micchi col bacio buona serata a tutti buona serata a tutti Grazie.